No. Qui. Potrà essere ancora qui. Cosa? C'è una chiave su questa isola. Devi trovarla, fratello. Una vita innocente è in pericolo. Un altro obiettivo, a sinistra! Mimir, di quale vita innocente stai parlando? Cosa hai fatto? Ciò che consideravo giusto. O almeno, che consideravo furbo. Spiappa! Qui potresti sfondare il terreno. Da qui è impossibile sfondare il terreno. Dobbiamo andare più in alto. Forse c'è modo di usare quell'elevatore. Da quell'altezza puoi schiantarti e rompere il terreno. Spiazza! Spiazza! Ora dobbiamo raggiungere la torre sulla spiaggia. Cosa stai nascondendo? Voglio che vi fidiate di me. No, se stai nascondendo? Ma che stiamo facendo, Mimir? Rimediamo a un errore. Usa la chiave con la serratura, fratello. Bene. Che ne dici di suonarlo più forte che puoi? Mimir! Spiega! Speravo che ormai fosse fuggito, invece dobbiamo assolutamente liberarlo. Che cos'è? Bullying Bucker. L'ho catturato molti anni fa. Spiega! La creatura... l'hai incatenata. Già. Che ruolo hai, padre di tutti? Nessuno. Tutto frutto del mio genio. Sono sorpresa. Incatenare gli innocenti è lo svago preferito di Odino. L'ironia è parte di me. Schialfa! 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 Giusto. Abbiamo legato anche le pinne. Puoi... Piano. Piano... Almeno la creatura è ancora via Sono certo che abbia desiderato a lungo di morire Ma ora la libereremo Così poi... Così poi vorrà comunque morire Ora l'altra pinna Ci sarà un modo per raggiungerla oltre quei detriti crollati Stiappa! Sei arrabbiato con me, vero fratello? Ricordo la sensazione del gioco attorno al collo Nessuno dovrebbe mai provarla Cosa dice, fratello? Cosa dice, fratello? Altre immagini poetiche della mente di Kvasir. Altre immagini poetiche di Kvasir. Perché l'hai incatenata? Il grasso è una fonte di olio per le lanterne di Odino. Olio da lanterna. La rabbia che provi, il disprezzo verso di me. Sono nulla rispetto a quanto mi colpevolizzi io stesso. La pilla. Se solo lo so. Manca solo la coda. Un nido di abbietti. Occhio! Abbietto, a sinistra! Il nido nascondeva un dispositivo. Così forse raggiungiamo la coda della creatura. Torniamo alla barca. Non ne hai mai parlato. E la cosa ti sorprende? Che un vecchio si vergogni degli errori che ha commesso? No. Non ne hai mai parlato. Non ne hai mai parlato. Non ne hai parlato. Non ne hai parlato. Ho pensato, sperato che la creatura fosse morta da tempo Ma chiaramente agli Aizir non importava nemmeno di ucciderla per pietà Nel momento in cui non fosse stata più utile Facciamolo noi No, non se si può salvare Bene, possiamo raggiungere la coda dal molo Salveresti comunque questa creatura? So cosa significhi questo tipo di prigionia Non posso abbandonarla E se non fosse possibile? Non capisco Proseguiamo A sinistra Anche la coda deve essere legata Potremmo usare quella corda per arrivare dove ci serve Ecco Sei libera Che succede? Forse ha bisogno di un incoraggiamento Puoi portarmi vicino al suo occhio così posso parlarle, fratello? Perfetto Perfetto Guarda Guarda Laggiù Ti stai punendo Non è vero, Mimir? Per avere sfruttato i lavoratori Per il Lingbaker Certo Gli altri lo farebbe se no Odino che ti incatena per centinaia di anni a un albero mi sembra sufficiente Ok, non siamo d'accordo Fai So La Alla Alla Amrima Questa Questa Alla Questa Comunze Vi Vi Spera Questa Questa La Forza, bestiona piagnucolosa! Cho! Non si muove? Perché non si muove? Si deve essere abituato alle sue catene. Ma... no. No, noi possiamo farcela. Basta farla sloggiare, spaventarla, fare qualcosa. Non possiamo rimettere le cose a posto. Possiamo solo migliorarle. Almeno può sentire il vento sull'uso. Spero che le sia di conforto. Ma questo non è sufficiente. Raramente lo è. Raramente. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.